E' Ponte Presale uno dei grandi sorvegliati proprio in questi giorni da parte della provincia di Arezzo il ponte di competenza regionale ma la provincia ha appunto effettuato alcuni rilievi su questa struttura che è stata costruita negli anni 60 lungo la provinciale 258 la Marrechiese. Ci troviamo nel comune di Sestino, l'ultimo comune della provincia di Arezzo prima di arrivare in Emilia Romagna. Questo ponte l'avevamo segnalato precedentemente a quello che era successo a Genova, lì abbiamo fatto anche uno studio visivo molto particolare perché abbiamo incaricato uno studio che con una macchina fotografica particolare, con un braccio snodato ha fatto un reportage di tutto lo stato di grado del ponte e proprio in questi giorni ci dovrebbe consegnare risultati e ci dà una mappatura delle situazioni su cui bisogna porre un pochettino più l'attenzione. Indubbiamente lasciarlo in questa situazione per molti anni sicuramente si mette a rischio, insomma ecco effettivamente la stabilità per cui programmare un intervento di investimento perché qui si parla di qualcosa come 2 milioni di euro, 2 milioni di euro nel mezzo perché ora che dovremo andare a intervenire dovremo fare anche un adeguamento sismico del ponte perché questo nonostante che non abbiamo nessuna documentazione tecnica non è stato progettato tenendo conto della normativa sismica per cui qui c'è un intervento molto importante da realizzare. È una strada regionale, come ripeto, quindi l'investimento lo dovrà fare la regione.